buonasera a tutti orkatti sinorku verde in questo video volevo informarvi riguardo il nuovo evento che rockstar games ha rilasciato per questa settimana su GTA V online però prima di informarvi riguardo questo nuovo evento volevo informarvi che rockstar games questa settimana oltre ad avere rilasciato la nuova auto super benefactor Krigar di cui ieri ho caricato anche il video a riguardo sul canale che se non avete ancora visto vi invito a andarlo a guardare ha rilasciato anche due nuove gare che sono colate di fango e acque agitate riguardo invece l'evento di questa settimana terminerà la mattina di giovedì prossimo ovvero giovedì 19 settembre iniziando dai bonus ci sono i soldi e le ripi doppi nella serie di gare e nella serie di gare stunt poi questa settimana nella ruota fortunata è disponibile la bravado gauntlet classic passando invece agli sconti c'è lo sconto alle 30 per cento sull'auto sportiva dinka jester classic sulla sportiva vapid gb 200 sulla sportiva de classe outring sabre sulla sportiva classica pegassi infernus classic sulla sportiva classica ocelot ardent sulla sportiva classica grotti citta classic e sulle tre auto muscle vapid click sister deviant e vapid dominator gtx poi c'è lo sconto alle 40 per cento sui garage escluso il magazzino veicoli su aggiunte ai garage su freni e manovrabilità su modifiche ai motori sul turbo sulle trasmissioni sugli spoiler e sulle sospensioni poi ci sono gli sconti di twitch prime dove tutti gli abbonati twitch prime che hanno collegato i propri accanto twitch e social club di rockstar games prima del 9 settembre riceveranno l'attico principale presso il casino e resort raimond gratis oltre a un rimborso al 100 per cento sul prezzo dopo l'acquisto del bunker di lago zancudo ha lo sconto nel 70 per cento sulla rampa vaghi e sul phantom wedge e un ulteriore sconto aggiuntivo del 10 per cento su tutti gli oggetti già scontati nell'evento di questa settimana poi ci sono una gara premium e due prove a tempo la gara premium è decollo solo per auto super mentre le prove a tempo sono app nato e la prova a tempo per ersi bandito little soul quindi nei torchetti nella descrizione di questo video lascerò il link dove dovete recarvi per collegare il proprio accanto twitch a quello del social club di rockstar games come anche il link dell'articolo di questo evento del sito rockstar newswire se volete dateci un'occhiata e niente orchetti io spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollicione in su commentate e condividete se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale per diventare un orchetto e poi seguitemi sui social trovate tutti i link dei miei social nella descrizione sotto nei video e da orcuverde twitter ci vediamo al prossimo video bella